Buonasera e grazie per essere con noi anche per questa e con questa edizione del telegiornale di Esperia che apriamo con i danni che ha provocato il maltempo che ha aggredito praticamente stanotte tra le tre e mezza e le cinque di stamattina la città di Crotona, in particolare l'area del quartiere Fondo Gesù con i tetti di due aziende importanti praticamente divelti e che insomma sono con sostanza un bel danno, peraltro Massimo Carlozzo insieme a Mimo Stefanizzi ha raggiunto alcuni dei titolari di queste imprese, quindi vi facciamo vedere le immagini girate con la nostra camera e anche quelle che ci ha fornito il comando provinciale dei Vigili del Fuoco e il servizio. Li vedete alle nostre spalle i mezzi dei Vigili del Fuoco e non solo, si sta lavorando alacremente dalle 3.20 della scorsa notte, una forte ondata di maltempo ha creato danni e disagio al quartiere Fondo Gesù, siamo a Crotone. Allora, al lavoro ormai dalla notte scorsa? Sì, da questa notte c'è una squadra nostra sul posto più il funzionario incaricato, funzionario di soccorso che ha provveduto a intervenire nei primi momenti dell'avvenuto. Che danni ci stanno? I danni sono del tetto e anche le due attività sottostanti sono state danneggiate in modo grave. Che tipo di intervento avete fatto e state facendo? Adesso si tratta di mettere in sicurezza quindi la rimozione di tutto il materiale pericolante e anche quello che sta sulla copertura. Sentiamo di mettere in sicurezza l'aria in modo da non creare difficoltà alle attività sottostanti. Danni, danni veramente ingenti ad alcune attività commerciali qui al quartiere Fondo Gesù di Crotone. Tra queste sicuramente MD e il negozio di elettrodomestici Troni. Stanotte alle 3.37 abbiamo ricevuto la telefonata dal nostro impianto antincendio. Non si capiva perché c'erano quel tempo quei tuoni, lampi fortissimi e di conseguenza siamo arrivati qua. Quando siamo arrivati qua abbiamo trovato tutta la strada bloccata dal tetto in mezzo alla strada. Ora quello che si vede è un terzo di quello che c'era. Entrando nel negozio danni enormi sulla zona più tecnologica, quindi la zona più importante del negozio, pienissima d'acqua. L'acqua entrava normalmente perché una striscia del tetto è stata divelta e quindi ha fatto tantissimi danni. La notizia è davvero squallida, siamo ovviamente in fase di indagini preliminari, però ci sono anche un po' di indizi molto oggettivi, molto chiari. Insomma vere e proprie prove per la verità, ma questo poi lo decideranno i magistrati. La guardia di finanza ha arrestato un infermiere che è in servizio all'ospedale Ciaccio di Catanzaro per violenza sessuale, pensate un po', nei confronti di diversi pazienti oncologici. L'indagato avrebbe abusato delle condizioni fisiche e psichiche dei malati affetti da gravi malattie oncologiche, costringendoli a subire atti sessuali contro la loro volontà. Molti gli episodi che si sarebbero consumati nell'arco di circa un anno dentro le mura del presidio ospedaliero. Dalle indagini sono emersi svariati episodi lesivi della sfera personale altrui. I finanzieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'infermiere che lavora proprio nel reparto di oncologia del Ciaccio. Nel corso delle indagini sono state sentite diverse testimonianze che confermerebbero i comportamenti di questo infermiere. Oggi una manifestazione davanti alla cittadella regionale con le sigle sindacali, la funzione pubblica delle tre organizzazioni confederali, a proposito del nuovo contratto di lavoro degli operatori all'interno delle residenze sanitarie e veranziali. Fra l'altro un sit-in di protesta in diversi capovanzi, praticamente in tutta Italia. Chiaramente noi lo abbiamo seguito a Catanzaro. Sentiamo Luciana Giordano che è la segretaria della FP CISL della Regione Calabria. Si sta manifestando in tutta Italia. È stato proclamato lo sciopero nazionale degli operatori che operano nelle case di cure, nelle case di riposo per anziani, a cui viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro IOP. Un contratto che in passato è stato sottoscritto non con le sigle sindacali maggiormente rappresentativi, quindi con CGL, CISL e UIL, funzione pubblica, ma con sindacati che hanno avuto più a cuore le sorti e i bisogni della parte datoriale piuttosto che quello degli operatori, cosiddetti sindacati gialli, mi permetto di dire. In tanti è da 12 anni che aspettiamo il rinnovo di questo contratto. Già quando c'è stata l'avvertenza che ha riguardato gli operatori della sanità privata abbiamo dovuto manifestare e lottare per 13 anni, prima di avere il rinnovo del contratto. E adesso siamo alle prese con il contratto che riguarda gli operatori delle case di ricovero per anziani, delle RSA. Oggi in tutta Italia ci sono questi presidi, si sono organizzati e si stanno tenendo questi presidi davanti alle sedi delle regioni, perché vogliamo che i vari presidenti, a maggior ragione il nostro presidente occhiuto, deve farsi carico. Chiediamo che si faccia carico di questa avvertenza e della richiesta di riconoscere a questi operatori i giusti diritti, il diritto ad avere un contratto collettivo nazionale di lavoro non a ribasso, non che pratichi il dumping contrattuale salariale, ma che riconosca gli stessi diritti che sono riconosciuti agli operatori che operano nello stesso settore e che applicano un'altra tipologia di contratto. Dicevo, noi chiediamo appunto intanto che si faccia carico di questa avvertenza in sede di conferenza Stato-Regione, ma soprattutto che tenga in considerazione il comportamento di questa parte datoriale nel momento in cui si realizzerà la rimodulazione tariffaria e anche lo stesso accreditamento. Conoscendo la sensibilità del presidente siamo convinti appunto che avrà a cuore la sorte di questi operatori che intervengono e operano, lavorano in un settore troppo delicato, si prendono cura della fascia più debole della società, quelli degli anziani. Un altro duro colpo inferto al narcotraffico internazionale. 50 finanzieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che coinvolge 14 persone tra Italia e Colombia e che si aggiungono ad altre 7 già arrestate in flagranza di reato. Sequestrati 7 quintali di cocaina, dopo che un anno fa ne erano stati sequestrati 4 tonnellate con l'arresto di 38 persone, tra cui esponenti nel cosiddetto clan del golfo colombiano. Oltre agli emissari del cartello sono stati individuati diversi gruppi criminali acquirenti di origine francese, marocchina e con collegamenti con Ndrangheta e Camorra. Allora, tanti auguri e buon lavoro a Giovanni Battista Perciaccante. Sapete, è stato il presidente regionale del Lance. Lance è l'associazione nazionale dei costruttori edili, che fa parte ovviamente di Confindustria. Adesso diventa presidente di Unindustria Cosenza. La Calabria è nel mio cuore, ecco perché vengo spesso e sono vicino all'intero mezzogiorno perché soffre di più. Fare l'imprenditore al nord è più facile, voi avete grande capacità e vi ammiro perché fate impresa in condizioni molto complicate, a partire dalle infrastrutture. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenendo all'Assemblea pubblica degli industriali della provincia di Cosenza, che ha eletto il nuovo presidente Giovanni Battista Pierciaccante, già presidente provinciale e regionale di Ance, che subentra all'uscente Fortunato Amarelli. In questo momento, ha aggiunto il leader degli industriali italiani, il governo non ha a disposizione risorse infinite e preparare una legge di bilancio quando ci sono ancora partite molto grosse e aperte diventa complicato. Siamo stati chiari, ci sono tre obiettivi, gli investimenti che vanno stimolati, le riforme e abbassare le tasse sul lavoro. Se crediamo nella Calabria, e noi ci crediamo, ha sostenuto il neopresidente di Confindustria Cosenza Pierciaccante, dobbiamo cambiare approccio. Un occhio particolare alla criminalità. È necessario che la Calabria si liberi di questo macigno che la tiene bloccata. Il nuovo corso di Confindustria è quello di seguire, continuare il lavoro che è stato fatto dai miei predecessori, da Fortunato Amarelli, che è stato bravissimo anche in un periodo così difficile, qual è stato quello della guerra russa-ucraina, che ancora ne stiamo pagando le conseguenze, e di Natale Mazzuca, Natale che ha avviato questo percorso di un'industria Calabria, che ha qualificato tantissimo anche la nostra Confindustria regionale. All'Assemblea, sul tema innovazione e sostenibilità, imprese protagoniste del cambiamento, hanno partecipato anche Federica Brancaccio, presidente nazionale dell'Associazione dei Costruttori Edili, il presidente della regione Roberto Occhiuto e il presidente di un'industria Calabria Aldo Ferrara. La priorità, ha sostenuto dal canto suo Brancaccio, è fare un lavoro di qualificazione delle nostre imprese. Le nostre imprese devono e fare un grande percorso di innovazione per farsi trovare pronte alla sfida del futuro. Al governo chiediamo coraggio. Il presidente Occhiuto, nel suo intervento, ha messo in evidenza l'attenzione che la regione rivolge a innovazione e sostenibilità, sottolineando che vanno incentivati gli sforzi e il nostro compito è sempre incentivare. E poi a Crotone i noi moderati si organizzano ovviamente, fanno partito, fanno attività politica e pensano fra l'altro a lanciare anche una nuova classe dirigente, quindi una classe politica fatta anche di giovani. C'è stato il consigliere regionale Talerico accanto ai coordinatori provinciale e cittadino del partito di Maurizio Lupi. In campo con energie giovani per dare un contributo alla società Crotone. Noi moderati parla di politica qualche giorno dalla riorganizzazione del partito che a livello nazionale fa riferimento a Maurizio Lupi ed in Calabria al consigliere regionale Antonello Talerico. Incontro pubblico nella sede di Feni Imprese per parlare di programmi e di tematiche diverse. Noi diciamo che non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a essere sempre vicini ai problemi dei cittadini e soprattutto lo facciamo oggi, lo facciamo oggi con la nomina del nuovo coordinatore regionale Antonello Talerico, consigliere regionale appunto che è stato nominato il nostro coordinatore due mesi fa. Quindi siamo pronti a ripartire, a ripartire per le prossime provinciali, le prossime comunali ma soprattutto a ripartire al fianco dei cittadini crotonesi che hanno sempre più bisogno di una rappresentanza non soltanto in regione ma anche a livello locale. Perché aderire a Noi Moderati? Noi Moderati è un gruppo crotonese che è costituito intanto da un folto gruppo di giovani che hanno voglia di fare politica, che hanno la passione per fare la politica. Bene, perché secondo me il gruppo di Noi Moderati si differenzia dagli altri gruppi politici sul territorio crotonese per il DNA che li tiene legati e sto parlando di valori, di onestà, di dignità, di reputazione. Molti giovani che si stanno avvicinando a Noi Moderati, per quale motivo? Perché Noi Moderati intanto è un partito nuovo, quindi sicuramente suscita molta curiosità. Però è un partito formato soprattutto da persone che amano questa città e ringrazio intanto Pisano Pagliaroli come coordinatore cittadino, Reste Gualtieri, coordinatore provinciale per il lavoro che svolgono all'interno del partito. Sicuramente a noi fa piacere vedere tanti giovani che si avvicinano al nostro partito perché comunque loro saranno il nostro futuro. A Crotone per incontrare una nuova classe dirigente. Sì, classe dirigente politica che manca in Calabria, manca nei vari centri, girano ancora i soliti nomi che giravano circa 20-30 anni fa. È arrivato il momento invece di fare la vera politica, ma non è l'accezione a cui solitamente siamo abituati, ma non perché arriva Antonello Tallerico. Il salto di qualità lo facciamo se ripartiamo sostanzialmente da un'idea nuova di coinvolgimento dei giovani, perché la classe dirigente oggi non c'è perché non l'abbiamo coltivata in passato. Ho dichiarato guerra ai piromani e loro hanno tentato di bruciarmi la casa. Il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, sul Corriere della Sera, racconta quello che è accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi alla sua casa al mare di Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza. I gnoti, lo vedete fra l'altro, hanno appiccato il fuoco a qualche decina di metri dall'abitazione in un punto dove c'è vegetazione. Avrebbero voluto far arrivare l'incendio fino al portone d'ingresso per mandare la casa in fumo, ma l'intervento dei vigili del fuoco poi ha evitato il peggio. Occhiuto interviene anche sulla digitalizzazione e ammette, peraltro, bisogna apprezzare la sua onestà intellettuale, che da questo punto di vista siamo indietro, quindi bisogna assolutamente accelerare. La Calabria sul tema del digitale c'è e vuole esserci maggiormente, così Filippo Pietropaolo in occasione dell'evento sulla digitalizzazione nella pubblica amministrazione Calabria Digital Summit, che ha registrato oltre 500 iscritti. L'evento, promosso da Regione Calabria e The Innovation Group, ragiona sul tema l'ecosistema digitale dell'innovazione in Calabria, fattore chiave di sviluppo economico. La sessione plenaria nella Sala Verde della Cittadella regionale si è aperta con i saluti del Presidente della Regione, Roberto Chiuto, e con gli interventi del Sottosegretario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'innovazione tecnologica e transizione digitale, Alessio Blutti, e anche del Consigliere del Presidente del Consiglio, Renato Loiero. L'obiettivo è quello di cercare di valorizzare, per venire alla sua domanda, le imprese locali, il tessuto imprenditoriale delle piccole imprese digitali calabrese, e farle crescere perché questo settore, questo ambiente, possa diventare effettivamente un motore di sviluppo della Regione. La Regione ha le carte in regola per farlo, ci sono le università, ci sono i centri d'eccellenza, ci sono una rete di piccole imprese che sta crescendo, quindi c'è la possibilità di mettere a fattore comune tutti questi fattori per poter generare crescita e sviluppo in questo ambito. Dobbiamo dare atto alla collega Loizzo di aver iniziato il processo della città unica di Cosenza da consigliere regionale con una proposta di legge. Nel frattempo la Loizzo è diventata, come sapete, parlamentare italiana. Ciò che hanno fatto dopo i consiglieri regionali proponenti va però su quel solco e vuole dare a Cosenza, rende Castro Libero, una comunità unita. Lo dice Alfredo Antoniozzi, che è vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Se la legge andrà in porto e se il referendum dirà sì, si voterà ad aprile 2026, quindi in coerenza con il mandato elettorale del capoluogo. Rende purtroppo a una situazione diversa. Alla sinistra chiediamo di partecipare attivamente a questa fase legislativa in corso, anche con proposte integrative. Gli amici consiglieri regionali che hanno formulato la proposta hanno fatto e stanno facendo un buon lavoro e sono aperti a qualsiasi apporto. Ovviamente in democrazia è un diritto anche comportarsi diversamente e scegliere altre strade e se gli amministratori locali lo vorranno fare lo accetteremo come azione legittima. Anche se, dice Antoniozzi, la città unica è un'esigenza non più rimandabile se si vuole costruire un territorio demograficamente attrezzato che i cittadini chiedono a tutti noi, tutti noi politici, maggiore coraggio. Adesso ci occupiamo anche di piccola pesca perché c'è un bel movimento. Guardate. Nel Castello di Le Castella si è tenuto l'evento di chiusura del progetto Indagini e studi per la redazione di un modello di piano di gestione sulle attività della piccola pesca nell'area marina protetta Capo Rizzuto. L'iniziativa promossa da Ambiente, Mare Italia è stata l'occasione per presentare le linee guida elaborate dalla stazione zoologica Anton Dorn per la piccola pesca e la sua importanza nel mar Mediterraneo e nelle aree marine protette. È emerso che c'è tanto da fare, che comunque ci sono misure gestionali che possono essere prese e che sono state individuate direttamente dai pescatori al fine di migliorare la sostenibilità della pesca e salvaguardare gli stocchittici che sono il futuro per il nostro pianeta. La pesca è una delle principali attività che dovrebbero dare lustro e ricchezza al popolo di Crotone e del Crotonese. Noi siamo qui da mesi e lavoriamo in collaborazione con l'ente di gestione dell'area marina protetta affinché quest'area marina protetta diventi veramente quello che deve essere un crogiolo di biodiversità, una ricchezza. Praticata con imbarcazioni di dimensioni inferiore ai 12 metri e con attrezzi passivi, la piccola pesca si conferma, secondo fonti scientifiche, come il metodo a minore impatto sull'ambiente marino costiero e allo stesso tempo una garanzia per il consumatore che predilige l'acquisto di prodotti ittici locali. Le pesche con la retta da posta, ahimè, nella riserva marina, sono troppe, troppe e tutto l'anno. I processi di redazione dei piani di gestione sulle attività della pesca costiera artigianale nelle aree marine protette rappresentano una prospettiva di sviluppo per l'economia delle comunità locali. Con i pescatori si è iniziato già un buon lavoro di concertazione, sperando che, soprattutto da quello che lo studio e il lavoro fatto dall'Antordonne oggi, ci aiuti sempre di più nel guardare al futuro con meno preoccupazione. I carabinieri hanno individuato a Delia Nuova una coltivazione di circa 150 piante di cannabis. La piantagione è stata totalmente distrutta a sua disposizione dell'autorità giudiziaria, quella di Palmi. Simile operazione è stata svolta dai carabinieri della stazione di Serrate di Galatro che hanno scoperto una piantagione di cannaba in una zona di aperta campagna in località Prateria. La piantagione è composta da circa 350 piante è stata campionata e poi distrutta. Anche a Giovia Tauro si è proceduto al sequestro di una piantagione di 500 piante di cannabis e sono ancora in atto gli accertamenti per verificare il contenuto di THC. E noi parliamo invece di serie B. Secondo scivolone casalingo del Cosenza che dopo il K.O. contro il Modena lascia tre punti anche alla Cremonese gara ricca di aspettative dopo il successo dei lupi a Palermo invece la sconfitta è arrivata in attesa anche in verità per i ragazzi di Caserta che al termine della gara hanno di che rammaricarsi per le occasioni sprecate e per qualche disattenzione di troppo. Marras prima e Tutino dopo non sono stati precisi sotto porta e il primo tempo è terminato senza reti. Le emozioni tutte nella ripresa col vantaggio ospita al sedicesimo grazie ad un preciso destro dell'ex Michele Collocolo che però sfrutta una serie di disattenzioni della difesa. Il pareggio arriva due minuti dopo grazie ancora a Simone Mazzocchi che di testa riesce a riequilibrare il risultato ma la sconfitta dei calabresi si materializza 11 minuti dal termine con la complicità del pacchetto arretrato Cosentino e del portiere Alessandro Micai che si fa anticipare di testa da Massimo Coda uno che in serie B non ha bisogno di favori per mettere la palla in rete. A fine gara il rammarico del tecnico Fabio Caserta Siamo partiti bene abbiamo avuto subito la palla con il Guttutino siamo partiti molto bene poi è normale che quando vai in pressione davanti qualcosa puoi concedere poi hanno dei grandi palleggiatori è una squadra ben costruita è una squadra forte in tutti i reparti è normale che poi è per bravura anche degli avversari che ti costringono ad arretrare un po' sinceramente non ho mai avuto la percezione di poter perdere la partita anzi abbiamo fatto la ripartenza con Tutino se non erro stavamo sull'1-1 ancora potevamo addirittura andare in vantaggio le partite gli episodi ti condizionano le partite noi non facciamo gol al primo tempo anche prendiamo il palo come ho detto prima siamo partiti molto bene purtroppo è andata così l'unica cosa a dispiacere oggi è il risultato che secondo me non meritava la sconfitta la squadra e adesso le previsioni del tempo con Trebi Meteo un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di giovedì il tempo sull'Italia continuerà a mantenersi stabile per effetto di un vasto campo anticiclonico che domina gran parte dell'Europa e che favorisce una situazione di prolungata stabilità che ci accompagnerà per diversi giorni più nel dettaglio della mappa della nuvolosità notiamo come transiteranno sul nostro paese frequenti velature nell'arco del giorno sulle regioni settentrionali ma il contesto sarà stabile e soleggiato un po' ovunque un sguardo quindi al tempo che ci aspetta nel corso della giornata il sole sarà comunque il protagonista da nord a sud come dicevo transiteranno frequenti velature al nord giusto qualche occasionale disturbo non è da escludere durante il pomeriggio sull'Appennino Meridionale sui rilievi calabresi con occasionali piovaschi ma altrove il clima sarà asciutto con caldo fuori stagione infatti le temperature massime raggiungeranno picchi anche di 28-30 gradi di notte al mattino i valori termici rimarranno più contenuti ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'App di Trebi Meteo Ancora pochi secondi per le 14 e 24 grazie per averci seguito restate con noi sempre in diretta con Smart Sport arriva Luigi Saborito noi se volete ci vediamo più tardi alle 5 e mezza